Sindaco, ieri c'è stata l'approvazione in consiglio del bilancio di previsione, un passo in avanti importante anche per i lavori allo Stadio Partenio Lombardi? Sì, in realtà erano stati ovviamente già previsti, ora con l'approvazione del bilancio possiamo anche procedere all'affidamento degli stessi interventi in modo che il manto erboso del Partenio si possa far trovare pronto quando comincerà la preparazione dell'apelino. Possiamo ipotizzare dei tempi, magari inizio agosto quando si tornerà da Palena? Guardi, le posso dire che sicuramente a giorni saranno affidati i lavori, poi non credo che si impiegherà molto tempo di fatto per l'intaso dello stesso rettangolo di gioco quindi certamente per agosto, salvo imprevisti, insomma tutto sarà terminato. Mentre per le tariffe c'è il settore patrimonio e al lavoro per organizzarle, per stabilirle, a che punto siamo in questo senso? Sono quasi definite, d'altronde in qualche modo abbiamo già un parametro di riferimento che era il canone mensile del bando e non si potranno discostare, certamente non in diminuzione da quella somma. Grazie. Grazie. Grazie.